Aspetta, c'è una cosa che deve dire Diego. Io mi voglio risiedere perché, vista come stanno le cose, non mi sento de Moem adesso. C'è qualcosa dentro che ancora... Ma stai scherzando? Perché io non mi posso mettere un momento del genere e... Cioè, è una cosa che devi vedertela privatamente. Io così non me la sento, Ida. Ma cosa c'entra adesso? Non me la sento così, Ida. No, non me la sento, Ida, mi dispiace. Ma adesso cosa c'entra questo? C'entra perché se c'ha cose irrisolte, le deve risolvere prima. Non è un momento del genere e poi io mi devo rimanere qui a vedere adesso delle cose così. Mi guardava quello che ho detto io ieri. Sì, ho capito, ma non è il momento per cui tu mi devi mettere lì, mi fai vivere una cosa del genere e poi mi dici... Poi mi metti a parlare, io rimango lì a vedere te che parli e discuti dentro il programma. Diego, è lei che... Non ha senso adesso... Io comunque gli avevo già detto alla redazione che volevo parlare con Tina e glielo avrei detto prima di uscire queste cose. Ma tu adesso... Ho capito, Ida, però è un momento del genere, ma io riesco a vivermi almeno una cosa fatta bene.